L'amore è tutto, Boris. Io voglio un uomo che mi porti alle vette della passione, un uomo che riunisca in sé tre grandi aspetti dell'amore, intellettuale, spirituale e sensuale. Beh, non ce ne sono molti di noi, ma se può fa. E quante donne sono rinunciatarie. Lo so, poverine. Si sposano per soldi. Per soldi, beh, i soldi. Ma io, io sentirei che la mia vita sarebbe sprecata se non avessi incontrato e amato l'uomo che stimassi per la sua mente, che mi fosse spiritualmente affine e che avesse lo stesso sprenato appetito per la passione sessuale che mi fa impazzire. Sei una donna incredibilmente complessa. Io credo di essere mezza santa e mezza vacca. Scelgo la metà che dà latte.